5 4 3 2 1 via 30 destra 3 più vai 20 sinistra 3 più taglia in sinistra 2 più gira poco 2 più gira poco in tutto sporco destra 4 più vai taglia in destra 4 tieni per sinistra 3 più dello spiazzo 50 al cippo destra 4 veloce taglia poco per destra 5 più corda in sinistra 5 taglia vai 70 destra 5 più attenzione lo spiazzo chiuderà 4 tieni meno taglia sporco 50 sinistra 4 meno 2 tempi 50 attenzione forse sporco sinistra 2 scende nei tronchi attenzione in destra 3 più taglia in sinistra 5 tieni in destra 3 più veloce 60 attenzione famosa ricorda sinistra 2 meno sporca subito destra 2 30 dosso scende dritto 10 dosso scende dritto ancora 20 sinistra 5 chiude poco per attenzione al pivio destra 2 più 90 non tagliare apre bene 50 leggera destra 30 inversione sinistra 30 inversione sinistra leva non tagliare in destra 4 più vai 30 tutto sporco destra 5 più 50 fine spiazzo sfrutta destra 2 90 100 100 al tralicio dosso dritto 50 dosso dritto ancora 70 attenzione cartelli alla staccata e sinistra 2 che apre 6 apre 6 in cima guarda 70 allo spiazzo destra 3 più veloce apre 40 sinistra 2 gire stringe 40 sinistra 5 veloce tieni per destra 5 lunga vai 5 lunga vai 40 sale sinistra 3 più del bovi 10 attenzione inversione destra sconnessa brutta per destra 5 lunga vai non è vero 40 leggera destra sudosso per rail sinistra 5 tieni in leggera destra 30 vista là in cima destra 5 più tieni per sinistra 5 meno chiude 5 meno chiude in destra 5 meno tieni in a rail la in cima sinistra 5 al nero chiude 3 più lunga vai chiude 3 più lunga vai in destra 6 50 la in fondo a rail destra 3 più gira poco 3 più gira poco in sinistra 4 più apre vai 60 sinistra 5 nel moto chiude 4 più in destra 5 vai in accenno sinistro per destra 5 meno due tempi veloce 40 attenzione frena destra 6 della casa in al cartello 10 destra 2 più 90 20 sinistra 3 più veloce vai in destra 5 meno vai 70 sudosso attenzione destra 5 meno vai taglia in sinistra 5 più vai per destra 5 più sudosso 20 allo spiazzo lascia destra 5 meno scompone 20 sinistra 4 sporca per destra 5 vai via subito subito sinistra 5 vai in attenzione frena sull'accenno destro in sinistra 2 che chiude chiude in destra 6 lunghina in a rail destra 2 più e subito sinistra 2 più gira sfruttala e esce destra 4 più vai 80 al cartello destra 6 lunga vai molto meglio la destra 6 lunga vai 130 destri attenzione chicane entra a destra destra 5 più vai in sinistra tranquillo in sinistra 5 più in destra 5 più 40 al bivio sinistra destra sinistra apre 80 allo spiazzo ricorda destra 4 più osa tieni in 4 osa tieni in sinistra 4 apre vai 40 scende attenzione destra 5 nel rail chiude 4 lunga 30 subito la corda al muretto sinistra 2 più gira 2 più gira 40 via 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 che andiamo subito nick sacrifica destra 5 tieni in sinistra 3 e subito destra 3 meno apre 50 al rail sinistra 4 meno subito accenno destro e in sinistra 4 più e subito destra 4 subito 4 meno poi eh 40 ritarda poco sinistra 2 più gira dentro 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 in destra 5 più vai 50 sinistra 6 dell'albero rosso per destra 5 vai 60 al muro dosso scende dritto 70 freno al cartello numero 50 10 destra 3 più osa 3 più osa in dosso scende 50 sinistra 5 più vai 80 sale accenno destro su dosso subito sinistra 3 però eh che apre 5 meno un'uscita addosso e quindi poi vogliamo 70 destra 5 più vai del cartello 70 ricordati lì in fondo alla cava che han cambiato ai cartelli 10 sinistra 2 veloce subito destra 3 meno 20 occhio da staccato su in fondo sporchi staccata viscida sinistra 2 meno 90 ghiaia per destra 2 veloce subito sinistra 2 tieni non tagliare in destra 3 che apre vai per salta mira spigolo casa per al muretto destra 4 meno chiude 2 per sinistra 2 più apre non tagliare in sinistra 4 veloce sudosso 40 dosso dritto scende per destra 5 più lunghina vai 40 sudosso destra 5 tieni e lascia per sinistra 4 più stringe lascia per sinistra 4 più stringe buono eravano sotto i due là dove c'era il kim adesso è solo Grazie a tutti.